E' la capitale europea della cultura 2019, eppure a Matera mancano i medici e nessuno sembra disposto a trasferirsi tra i sassi lucani, patrimonio dell'UNESCO. L'offerta però pare irrinunciabile, assunzione a tempo indeterminato con stipendio di 3.000 euro al mese. L'azienda sanitaria della Basilicata ricerca ormai da quasi un anno camici bianchi, senza però ricevere risposta. Quando vengono condattati per sottoscrivere il contratto accade che il più delle volte rinunciano, in alcuni casi prendono servizio e poi si dimettono dopo qualche mese, a volte anche forzando le norme. Quando ci chiedono la mobilità, cioè il trasferimento, il più delle volte lo neghiamo, pur essendo un diritto del dipendente. Gli ospedali in cui serve urgentemente personale medico sono quelli di Matera e Policoro. Senza nuovi dottori, gli strutturati per garantire il servizio sono costretti a turni infernali. I medici del pronto soccorso fanno dei turni massacranti, fanno dei turni massacranti anche con un organico che è ristretto. Anche l'esigenza di adeguare gli organici a questo lavoro importante ma molto gravoso. I ragazzi lucani per formarsi partono verso le università di tutta l'Italia e finiti gli studi non vogliono più tornare nella loro terra. Siamo l'unica regione d'Italia che non ha una facoltà di medicina, quindi non formiamo noi medici. I nostri medici vanno a formarsi altrove, spesso sono attratti dal rimanere laddove vengono formati e dove fanno la scuola di specializzazione. Il bando per l'assunzione dopo non aver ricevuto risposte è stato riaperto. C'è tempo fino al 5 aprile.